Continua la diatriba tra il proprietario del Gran Caffè Aragonese, Edoardo Trotta, e l'ente a tutela dei beni architettonici e paesaggistici di Napoli. La soprintendenza aveva concesso il placet per la costruzione del roof garden, basandosi semplicemente su delle stampe raffiguranti la chiesa di San Domenico Maggiore, che risalgono a metà dell'Ottocento. A questo erano seguite le proteste dei residenti del centro storico, perché tali lavori deturpavano la valenza paesaggistica della piazza, e così l'ente, che dovrebbe tutelare il paesaggio nostrano, tornò sui suoi passi, arrestando l'attività degli operai. Un'altra nefandezza, questa collezionata dalle istituzioni locali, che regala un nuovo scempio alla zona culto della città di Napoli. Un cantiere chiuso che intacca la bellezza di uno dei capolavori del capoluogo campano, da sempre motivo di attrattiva turistica. La curiosità della stampa estera sarà adesso vedere se i detriti, generati da tali lavori, saranno rimossi in tempo utile, o se diverranno anch'essi patrimonio architettonico per Tenopeo.